Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. A soli 24 anni, Nemo Mettler, un talentuoso artista svizzero, ha lasciato il segno nell'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest. Cresciuto in un ambiente immerso nella musica, Nemo ha esplorato vari strumenti musicali e generi, dalla lirica al rap, prima di emergere sulla scena musicale. Il suo pezzo vincitore, Decode, è un audace mix di opera e musica elettronica, con influenze rap, che sfida le convenzioni di genere sia musicali che personali. Nel brano, Nemo esplora la propria identità non binaria, celebrando la libertà e il rifiuto di aderire alle rigide classificazioni di genere. La sua performance all'Eurovision non è stata solo una vetrina del suo talento unico, ma anche un momento potente di rappresentazione per la comunità non binaria. Sventolando la bandiera della comunità non binaria, Nemo ha inviato un messaggio di inclusione e speranza. Il suo successo all'Eurovision rappresenta non solo un personale traguardo, ma anche un passo avanti per la visibilità e l'accettazione delle persone non binarie nel panorama musicale e oltre. Nemo, insieme ad altri artisti non binari come l'irlandese Bambietag, dimostra che la musica è un campo dove l'identità può essere espressa in tutta la sua complessità. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.